Bella a tutti frienze e benvenuti in un nuovo video, ci troviamo su Fortnite e io sto aspettando l'uscita dei nuovi oggetti nel negozio oggetti di Fortnite Mancano 2 minuti e 50 secondi, mentre aspettiamo vi parlo dell'aggiornamento che avverrà tra poco per voi Io ovviamente sto registrando questo video la sera, come avete visto tra le notizie c'è questa nuova revolver con mirino Vediamo come sarà in game, sicuramente sarà ancora più pive Perché la revolver già di suo è veramente una bomba, con il mirino avrà ancora più precisione Infatti dice, pistola a 6 colpi con una bella potenza e una precisione perfetta sulla distanza Poi tra le varie cose, intanto riandiamo al negozio oggetti, mancano solo 2 minuti Ci sarà l'aggiornamento delle costruzioni che impedirà finalmente al gioco di costruire parzialmente sotto terra Quindi sotto al terreno, quel famoso video dove vi ho mostrato che finalmente ci sarà una parte sotto di costruzione e una parte sopra al costo solo di 10 materiali Poi ci saranno correzioni e regolazioni della zipline, infatti il bug della zipline non esisterà più, ringraziando Dio E sarà possibile cambiare il senso sulla funivia senza saltare, quindi sarà questa nuova implementazione Cambieranno moltissimo le sensibilità, sia quella mentre costruiamo, sia quella di mira Tutte le sensibilità avranno dei cambiamenti e cosa molto importante ci sarà di nuovo lo schieramento del deltaplano Se ben vi ricordate, in Fortnite, mi sembra un mesetto fa sotto il periodo natalizio, forse un po' prima Abbiamo avuto lo schieramento del deltaplano come se stessimo giocando nella modalità 50 vs 50 Anche se noi giocavamo nella modalità singolo Tornerà questo schieramento del deltaplano A molti non piaceva, a molti è piaciuto Fortnite lo vuole rintrodurre però come se fosse un oggetto, un item Quindi staremo a vedere, infatti lo troveremo all'interno, sotto sulla destra, tra i nostri oggetti che portiamo in giro Vediamo come sarà ancora, non c'è nessuna immagine, non c'è nessun video, sono solo notizie e sono trapelate Allora, mancano 40 secondi, ora farò un piccolo taglio Mancano 7 secondi, 6, 5, vediamo se c'è qualcosa che si può scioppare 2, 1, nuovi oggetti E invece no, e invece no signori, niente di nuovo Oggetti in evidenza Ci sono i due maghi, c'è Elmira, la grande Elmira Di cui vi ricordate quel fake trailer della season 7 dove c'erano i maghi appunto Che sembrava veritiero, poi invece si è trattato semplicemente di un bel fake, fatto benissimo Abbiamo il signor Castore, questi già li conosciamo con il suo zaino Io questi non li ho presi, anche se la streghetta, Ermione, non sarebbe male da scioppare con il suo libricino La pozza magica, zaino Ok, not bad Fattucchiere Sentiamo un po' per i feticisti del suono Niente di che, sinceramente, non mi fomenta tantissimo questo Poi andiamo a vedere Ok, questo è un bel deltaplano Queste sono veramente belle Questo è un bel deltaplano, per esempio Ha le magiche, da 1200, questo sarebbe da scioppare Questo sarebbe da scioppare, signori Queste mi piacciono, sì, queste mi piacciono Andiamo a vedere poi di qua che cosa abbiamo Rapace, che ovviamente questo l'ho dovuto scioppare assolutamente Secondo me è una delle skin più belle nel gioco Poi ovviamente ne sono state implementate altre e altre Però questa fa parte veramente dell'inizio, è veramente bella A me piace molto, sta certo a 2000 V-Bucks Con il suo piccone Questo è bello Sentite che suono Una cassa d'acqua, raga, è bellissimo Sto piccone è bellissimo Però 1500 e mi ne voglio tenere per scioppare una skin Una novità che uscirà Poi abbiamo ascia spettrale E questo è veramente bello come piccone Mi piace molto Si sente anche un bel suono Bello, come se dentro fosse vuoto All'interno non ci sia nulla Mi piace questa ascia spettrale Poi telefonata Che è un emote Dopo che io sono andato anche a fare un video È veramente bella questa emote E soprattutto fa tiltare tantissimo gli avversari E l'emote di sax guy Io ti vengo a chillare Sax guy Ok va bene, basta Poi abbiamo guardiano Classica emote da 800 Niente di che Non mi fomenta Se devo essere sincero Questo pizzetto Baffetto E ciglio Biondi Occhio celeste Niente di che Questo non mi piace per niente Punto intermedio Che è simile a una skin La skin reflex Versione femminile Ancora deve uscire in game Però ovviamente qui stiamo parlando di un'altra Di un altro genere di skin Quell'altra skin Ancora dobbiamo sapere come la otterremo Staremo a vedere Comunque punto intermedio Questa non mi dice niente Non mi piace Poi abbiamo scilla E molto da 500 E petunia Il fiore Deltaplano con i fiori ovviamente Eccolo qui Io non penso di shoppare nulla signori Perché l'unica cosa che avrei shoppato È rapace Questo piccone Che ha un suono veramente bello Però mi voglio tenere i beatbox Per qualche skin Che uscirà Pensavo che oggi sarebbero uscite nuove skin Invece non è stato così Fortinet ci sta prendendo un po' in giro In questi giorni Comunque se dovete shoppare qualcosa Io vi consiglio Elmira Elmione Bellissima questa skin Mi piace E soprattutto questo piccone Ali magiche Che è veramente bello Fatemi sapere qua sotto nei commenti Voi che cosa avreste shoppato E che cosa avete shoppato Datemi comunque qualche consiglio Se vi piacciono questi video Dove vi vado a portare il negozio oggetti Mi raccomando lasciate un bel like per questo video Condividetelo con i vostri amici Almeno anche loro Vedono che cosa c'è all'interno del negozio oggetti di oggi Noi ci vediamo in un nuovo video E le bel mesami Noi ci vediamo in un video